Il 2020 è passato, ma per il litorale veneziano i guai non sono ancora finiti. Non tanto le incertezze legate al Covid, su cui comunque c'è se non altro la grossa speranza degli effetti che avrà la vaccinazione di massa. A preoccupare è piuttosto un maltempo che non concede tregua. Purtroppo appunto in queste ore tutta la costa è stata colpita dall'ennesima mareggiata che ha evidenziato ancora una volta la fragilità del sistema delle coste e del Veneto in particolare. È arrivato il momento di pensare ad un piano infrastrutturale per la protezione della costa, non solo dal punto di vista ambientale, ma anche e soprattutto per salvaguardare e mettere in sicurezza la grande macchina del turismo balneare del Veneto. Per questo noi chiediamo che venga finalmente ripreso il ragionamento sulla creazione di un capitolo di spesa all'interno del bilancio regionale agganciato al turismo e dedicato alla salvaguardia di questo comparto economico. Quello appena trascorso è un anno che ha messo a dura prova l'intero settore, un settore che ha però saputo reggere l'urto e dimostrare la solidità su cui si fonda nella gestione di un'estate particolarmente complicata. È stato un anno sicuramente difficile come mai si era registrato prima, è stato un anno anche di soddisfazioni perché sono orgoglioso del grande lavoro che assieme a tutti i colleghi delegati della nostra associazione sulla costa siamo riusciti a fare. Lavoro che è stato fatto e sforzo che è stato profuso per concepire un nuovo concept delle spiagge, per ridisegnare una nuova visione dei nostri stabilimenti balneari, dei nostri campeggi. Tutto questo per consentire alla grande macchina del turismo veneto di ripartire e di mettere in atto quella grande capacità occupazionale. Dobbiamo continuare in questo senso per guardare al futuro con speranza nonostante le difficoltà. Per l'associazione che consorzia molte spiagge tra le maggiori località balneari venete, il 2020 ha segnato anche l'ingresso di due nuovi soci, l'isola di Albarella e la delegazione di Lido Altanea a Caorle. Sul fronte dell'associazione delle concessioni balneari, infine, la situazione in Veneto è positiva. Tutti i comuni costieri hanno dato corretta applicazione della legge vigente e le concessioni demaniali sono state estese al 2033. Ma con la procedura di infrazione da parte della comunità europea sulla cosiddetta Bolkestein, la partita rimane aperta. Grazie a tutti.